Musica Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Oggi ho il piacere di presentarvi il nuovo libro di Lusi Scattarelli che ritorna nei nostri studi. Ciao Lusi, ben trovata. Presento subito il libro che si intitola La strada, la vela, appunti di spiritualità laicale, edito da Insieme, la prefazione di Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Oionio e la lettera introduttiva del fondatore del Sermin, Ernesto Olivero. Allora, ritorni per la seconda volta nei nostri studi a presentare un tuo scritto. La prima cosa che ci siamo dette, appena ci siamo viste, è stato, abbiamo parlato un po' della mancanza dei laici oggi, che sono poco impegnati, poco presenti. Quindi in un certo senso questo libro può essere anche un modo per spronare i laici cattolici a essere davvero inseriti nella società. Perché hai deciso di mettere nero sul bianco, Lusi? Beh, questi erano una serie di scritti che io avevo conservato. Il titolo che io ho dato, La strada alla vela, è come scrivo nell'introduzione, rappresenta due situazioni in cui credo noi laici siamo chiamati a vivere. La strada è la concretezza della vita, quindi la famiglia, il lavoro, tutte le problematiche della vita quotidiana. È ciò che ci tiene legati alla terra, legati alla strada. Invece la vela è quel senso di infinito, quel sogno che ognuno di noi credo debba avere. Perché se ci si fermasse solamente alla strada, veramente scorrerebbero i giorni, credo, della vita di una persona, senza avere quell'afflato verso l'infinito. Ecco, quindi io ho sempre cercato di avere questo interesse anche per ciò che, ripeto, è l'orizzonte, un guardare avanti, un guardare alto. E la vela, perché la vela affronta le intemperie, però guai se il mare fosse sempre in bonaccia. Ha bisogno di un minimo di vento per camminare. Ecco, quindi un po' tutti questi quadri che ho tenuto presente. Lusi, tu sei una mamma di famiglia, hai tre figlie, sei un'imprenditrice, quindi hai una professione, una vita impegnata, impegnata anche nell'azione cattolica, sei vicino al Serming di Ernesto Olivero, appunto è questo il tuo secondo libro. E ti sei lasciata anche aiutare, guidare dai tempi dell'anno liturgico. Sì. Perché sono delle riflessioni che tu hai scritto durante l'anno e che poi hai deciso di mettere insieme. Sì. L'anno liturgico, perché appunto hai scelto di lasciarti guidare dai tempi che la Chiesa stessa ha detta? Diceva il nostro vescovo precedente all'attuale, Monsignor Mariano Magrassi, liturgista di fama, diceva che l'anno liturgico prima di tutto è un grande pedagogo, perché ci insegna tanto. E seconda cosa è una spirale che ci porta verso l'alto, cioè ogni Natale è diverso dall'altro, è diverso dal precedente, è diverso dal successivo. Dico Natale per dire Pasqua, per dire tutti gli eventi dell'anno, perché ci dovrebbe portare ogni anno sempre più verso la meta, verso una crescita personale importante. E quindi, ecco, credo che le celebrazioni, le feste, le solennità che noi viviamo, come la Pasqua è prima di tutto, è poi il Natale, la Pentecoste, l'Avvento, ci possano veramente davvero insegnare tanto. Ecco, per esempio, l'Avvento, questo senso dell'attesa, oppure ecco la risurrezione di fronte alla quale la nostra fede si interpelle in modo molto, molto forte. Recentemente ho ascoltato Massimo Cacciari, grande filosofo ateo, lui si proclama ateo, ma anche grande conoscitore della Bibbia. E lui ha detto, io posso considerarmi cristiano fino al venerdì santo, però poi dopo ho problemi. Questa riflessione è molto forte, ecco, ed è forte anche e soprattutto per noi cattolici. Hai deciso appunto di consegnare ai tuoi lettori, al pubblico queste riflessioni. Come scrive nella prefazione, Monsignor Savino è un testo che narra la vita della Chiesa, che è tutta impregnata della presenza di Dio e per questo diventa luogo di vita e di crescita. L'autrice parte dalla considerazione che la propria esperienza ecclesiale costituisce una ricchezza che occorre condividere con gli altri, quindi raccontare agli altri la propria fede, quello che forse manca un po' oggi, quello che ci dicevamo anche prima, a microfoni spenti. Forse prima c'era più la possibilità, anche la voglia, di raccontarsi, di parlare un po' di tutto, dal Festival di Sanremo al convegno seguito il giorno prima, di battere e di battere su questo. Oggi manca questa voglia, questa passione di raccontarsi, di raccontare anche la propria fede. Perché oggi c'è molto individualismo, ecco c'è tanta gente che si ammala di soliditudine, ma non la si riesce a combattere, perché comunque non si ha voglia di mettere in comune i propri pensieri, le proprie riflessioni, lo stare insieme con gli altri. Ecco c'è molto individualismo, oppure se si sta insieme agli altri, si sta insieme fino a un certo punto, perché c'è questa esasperazione della propria privacy, dentro la quale non deve entrare nessuno. Ecco questo, e questo ci porterà poi ad ammalarci, prima o poi. Però spiattelliamo tutto sui social, anche se siamo, amiamo la nostra privacy, però poi mettiamo tutto in piazza. Un altro passaggio molto bello è quello che scrive nella lettera introduttiva Ernesto Olivero, al quale tu sei molto legata, lui fondatore del Sermig e dell'Arsenale della Pace di Torino. Lui scrive, come te mi sento un cittadino del mondo che illumina le vicende quotidiane con la luce della parola di Dio, che vive semplicemente da cristiano, che lavora per il regno, rendendo gloria a Dio dal basso della terra, con la bontà che disarma i cuori e costruisce ponti di futuro. Un eterno ottimista Ernesto Olivero. Bello questo che dice, cittadino del mondo. Sì, perché appunto quando si vive la concretezza della vita sulla strada, ecco, prima ho parlato della vela, la strada indica il cammino. A me piace molto anche fotografare le strade, i sentieri vuoti, cioè li fotografo davanti a me, perché quello è l'invito a camminare, ad andare avanti sulla strada. Quindi sulla strada noi troviamo, come dicevamo prima, la vita concreta, la vita quotidiana, la vita che è fatta di incontro con le persone, che è fatta di fatiche. Hai citato Ernesto, Ernesto è un ex dirigente di banca, io sono un agente di assicurazioni, quindi voglio dire, abbiamo avuto molto a che fare con i soldi, con la quadratura dei bilanci, con le cose estremamente concrete. Ecco, è l'incontro, però io dico sempre, lo dico anche a mia figlia che lavora con me, la cosa più bella del nostro lavoro è il rapporto quotidiano che si ha con le persone, perché ne vediamo, vediamo l'umanità che passa attraverso il nostro ufficio. Ecco, ed è bello anche poter, diciamo, scambiare anche un sorriso, la cordialità. Sono tutte cose, diciamo, che sembrano niente, però a volte nella vita di una persona possono riscaldare il cuore. E tu citi proprio il camminare, la tua riflessione a proposito del fatto che ti piace fotografare la strada, i sentieri, anche quelli vuoti. E citi Papa Francesco in occasione dell'incontro con i giovani in Molise, la vita va camminata e non girata. Camminare presuppone un itinerario, un obiettivo in fondo al cammino. E poi scrivi anche, camminando si andrà anche con tanta fatica verso una meta, ma restare fermi non ci porta da nessuna parte. E l'immobilismo sarà la nostra più grande colpa. Quello che mi ha colpito molto, Lusi, è anche il fatto che questo libro, nonostante sia scandito, appunto, dai tempi della Chiesa, dell'anno del calendario liturgico, si possa aprire tranquillamente, così, per caso, e il lettore si lascia guidare da frasi, magari anche da una parola. Quindi non è un romanzo, non ha bisogno, non c'è bisogno della cronologia. Però, insomma, ci si può anche lasciare guidare da riflessioni. Ad esempio, ho aperto così per caso, pagina 134, nei momenti di difficoltà ecclesiale, ognuno di noi dovrebbe arrivare a dire, con il padre Turoldo, nel suo testamento spirituale, amo la Chiesa locale, vero sacramento della mia vita. Lasciarsi guidare, appunto, da queste riflessioni che tu regali ai tuoi lettori e ai tuoi amici. È dedicato a qualcuno in particolare questo libro, Lusi? Diciamo alle persone che ho incontrato sulla mia strada, soprattutto nella giovinezza, ma anche attualmente, ho presente qualche sacerdote che ha inciso molto nella mia vita, ma, ecco, soprattutto a queste persone, come dico nella dedica all'inizio, a coloro che veramente hanno testimoniato con la loro fede, con la loro vita, quel signore di cui poi io mi sono innamorata. Ecco, perché come diceva San Paolo VI, che è stato il papa della mia vita, ecco, lo posso dire, lo dichiaro sempre, pur, diciamo, quando è morto io avevo appena 23 anni, quindi ero molto giovane, però quel brano che tu hai citato sulla Chiesa, ecco, credo che il papa Paolo VI, lui come nessun altro, ci ha insegnato ad amare la Chiesa. Ecco, quindi, e lui diceva anche, la gente non vuole maestri, vuole testimoni, e se crede ai maestri, perché sono stati anche dei testimoni. Ecco, quindi io ho avuto dei maestri che sono stati dei testimoni, e quindi lo dedico a loro a questo. Bene, e allora ricordo il titolo del libro, è La strada, la vela, appunti di spiritualità laicale, edito da Insieme, la casa editrice che ha pubblicato diversi libri, anche su Don Tonino Bello, ecco, quindi ricordavo bene, a firma di un'amica di Padre Pio TV, una nostra amica, Lusi Scattarelli, che ringrazio per essere venuta qui e per averci presentato il suo lavoro. Alla prossima occasione, al prossimo libro. Grazie. Grazie a voi.